Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare come sempre come al solito vi ricordo di seguirmi su Instagram e su TikTok e il link che trovate qui sotto in descrizione. Dunque signori, questa notte Marvel Studios e Disney Plus hanno pubblicato il primo trailer ufficiale di Moon Knight che sarà la prima serie del Marvel Cinematic Universe a debuttare quest'anno. Infatti si comincerà con il 30 marzo, con il primo episodio e si andrà avanti per 6 settimane fino al 4 maggio, data che coinciderà con l'uscita di Doctor Strange nel multiverso della follia. Questo primo trailer, per quanto non sia tanto spoileroso, grazie a Dio, nasconde alcune chicche decisamente interessanti ma prima di cominciare volevo farvi un piccolissimo e super veloce riassuntino su chi è Moon Knight e sulla questione delle sue personalità multiple. È un personaggio molto figo per quel che mi riguarda all'interno dell'universo della Marvel tra l'altro sono uscite negli ultimi anni alcune run decisamente interessanti e che vi consiglio come questa qua di Ellis e anche quella dopo di Lemire che è quest'altra qui. Veramente, veramente ottimo. Lui è un personaggio che è sempre a cavallo tra il sovrannaturale e il naturale. In base a chi lo scrive non si capisce mai se lui è realmente posseduto da Khonshu ovvero la divinità egiziana della luna o se è semplicemente fuori di testa. In sostanza lui ha personalità multiple e la più dominante nei fumetti è quella di Mark Spector che è un mercenario che dopo essere morto in Egitto viene appunto resuscitato da Khonshu e poi abbiamo Stephen Grant che è quella che dovremmo vedere all'interno di questa serie e dovremmo vedere tutto dal punto di vista di Stephen Grant che in questa serie su Disney Plus è un addetto alla vendita all'interno di un museo a Londra o in Inghilterra. Per me hanno modificato un po' il British Museum però non è propriamente quello mentre nei fumetti Stephen Grant è un milionario playboy esperto di finanza. Abbiamo poi una terza personalità che è quella di Jack Lockley che è un tassista Moon Knight che è appunto l'eroe ed infine Mr. Knight che è quella introdotta recentemente nella run di Ellis Odio recentemente nel 2013-2014. Mi aspetto quindi che oltre a Stephen Mark e Moon Knight che vengono già anticipati in questo trailer e ci possano far vedere qualcun altro. Comunque partiamo subito con l'analisi. Trailer che si apre facendoci vedere Oscar Isaac appunto nei panni di Stephen Grant cosa interessante e curiosa è il fatto che sembra che vedremo tutta la serie dal punto di vista di Stephen e non di Mark che in realtà è la personalità dominante nei fumetti e lo vediamo mentre racconta che ha grossi ed enormi problemi a dormire perché non riesce più a distinguere cose reali da cosa sta sognando e per questo motivo vediamo come lui si leghi al letto si chiuda dentro casa mettendo anche uno scotch sulla porta non so quanto possa servire e lo vediamo poi risvegliarsi come se avesse avuto un incubo e la cosa curiosa che ho notato è che se ci fate caso tutto intorno al letto il nostro caro Stephen ha messo della sabbia. Comunque il risveglio è traumatico perché dato che si era legato al letto come abbiamo visto nella scena prima cade rovinosamente di faccia. Vediamo poi il nostro protagonista mentre si reca al lavoro dalla trama ufficiale rilasciata subito dopo il trailer sappiamo che Stephen fa l'impiegato in un negozio di souvenir all'interno di un museo che non viene ben specificato ma che ricorda un sacco il British Museum anche se hanno cambiato un po' di cose secondo me non hanno avuto il permesso di girare al suo interno un po' come era accaduto con Black Panther dato che la scena della rapina con Killmonger doveva essere girata al British Museum ma all'epoca il museo non diede i permessi a Marvel per girare all'interno e quindi deviarono verso un'altra struttura. Comunque lo vediamo mentre si accinge a prendere uno dei tipici bus rossi a due piani inglesi per poi addormentarsi al suo interno contro un'altra persona. E tra l'altro il fatto che credo sia ambientato a Londra mi ha fatto un po' accendere alcune lampadine perché vi ricordo che anche Dan Whitman ovvero il Cavaliere Nero che compare nel film di Eternals sta a Londra e alla fine nella post credit sappiamo che la voce misteriosa che parla a Dane è quella di Blade. Quindi abbiamo già tre eroi che stanno nella città inglese ovvero Moon Knight, il Cavaliere Nero e Blade e la cosa secondo me potrebbe portare ad un futuro crossover molto molto figo di Marvel Knights o dei Midnight Suns sarebbe veramente epico. Ma torniamo al trailer perché vediamo il nostro povero Steven che viene bullizzato da questo personaggio chiamato Donna che credo sia una sua collega o un suo superiore che appunto continua a dirgli che è inutile, che non serve a niente e tra l'altro vediamo questa inquadratura dove vediamo le paperelle vestite da regina Elisabetta a confermare ulteriormente che ci troviamo in Inghilterra. Rivediamo poi Steven tornare nel suo appartamento e ha questo breve flash mentre si guarda allo specchio e al posto suo compare appunto Moon Knight con un costume che mi ha ricordato un sacco quello del Moon Knight di Terra X dove era appunto fatto di bende solo che lì era una terra alternativa, un universo alternativo e Moon Knight aveva abbandonato tutte le armi collegate alla Luna e girava con due mitragliatrici. Decisamente diverso, non penso che vedremo Moon Knight sparare con due Uzi all'interno della serie però comunque questa cosa che è fatto tutto di bende è sicuramente un riferimento a quel costume. Abbiamo poi questa scena fighissima che mi è piaciuto un sacco che credo sia ambientato nella zona condominiale dell'appartamento di Steven dove compare Khonshu, ovvero il dio egizio della Luna. Lo vediamo avvicinarsi sempre di più a Steven che si trova all'interno dell'ascensore e che ne è visibilmente terrorizzato e nel momento in cui blocca la porta per entrare al suo interno vediamo che in realtà si tratta di una tenera vecchietta che molto probabilmente è una delle vicine di casa di Steven. Steven si rende conto di aver avuto una sorta di visione e quindi tenta di giustificarsi dicendo di aver perso una lenta contatto. Torniamo quindi all'interno del museo. Sentiamo squillare un telefono e mentre Steven si aggira al suo interno vediamo come il suo riflesso rimanga fermo. E mi è piaciuto un sacco il fatto che non sia un singolo riflesso ma siano due come a sottolineare che ci siano appunto diverse personalità. Steven trova quindi il telefono insieme ad una chiave telefono sul quale possiamo vedere una sorta di coccodrillo subnilo un altro riferimento appunto alla questione Egitto e poi lo vediamo rispondere ad una telefonata mentre si trova all'interno del suo appartamento. I sottotitoli ci informano che dall'altro lato della cornetta sta parlando Laila che è questo personaggio che verrà appunto introdotto all'interno della serie ma che noi avevamo già visto anche nel primo first look per qualche breve secondo mentre veniva trascinata all'interno di un affranto buio di una grotta e sentiamo Laila appunto chiedere che fine avesse fatto chiamandolo Mark e Steven si stupisce appunto di essere chiamato così e gli chiede chi è Mark e Mark come ho detto prima è ovviamente un riferimento a Mark Spector che è una delle personalità del personaggio ovvero quella del mercenario che nei fumetti è quella predominante mentre qui sembra che sarà quella di Steven o perlomeno noi vediamo tutto dal punto di vista di Steven. Vediamo poi Ethan Hawke nei panni di Arthur Harrow che sarà il villene di questa serie. Nei fumetti Harrow è uno dei personaggi super super secondari di Moon Knight credo sia comparso solamente mezza volta all'interno di un vecchio fumetto e lavora per un'agenzia chiamata Omnium lui nello specifico è uno scienziato candidato al premio Nobel che a causa di una malformazione alla faccia compie vari esperimenti per tentare di trovare una cura credo proprio quindi che abbiano riscritto il personaggio per adattarlo alla serie anche perché in queste prime immagini lo vediamo camminare per una città tedesca mentre è circondato da un sacco di persone come se fosse a capo di una setta infatti quando lui passa tutti tentano di toccarlo si inginocchiano di fronte a lui e l'unico che rimane in piedi è proprio il nostro Steven che poi vediamo prendersela con il suo riflesso prendendo a calci un vetro in un'altra scena e vediamo poi il personaggio di Ethan Hawke parlare con Steven all'interno del museo e poi il nostro protagonista avere una sorta di crisi in quella che credo sia una clinica psichiatrica o perlomeno lui vestito di bianco è tutto bianco quindi o si trova in una clinica psichiatrica o si trova in un apple store e tra l'altro potrebbe essere quindi anche una citazione alla run di Lemire vediamo quindi Steven come se si fosse appena risvegliato all'interno di un furgone mentre guarda la sua mano insanguinata che tiene una pistola credo quindi che la personalità di Mark abbia preso sopravvento e abbia ucciso tutti quanti o abbia picchiato durissimo e in questo sia il momento in cui Steven torna a essere se stesso e vediamo poi due piramidi e subito dopo Steven che mi ha dato l'impressione che si trovi di fronte a una sorta di altare scena poi di lui che scappa terrorizzato in questa sorta di locker room dove ci sono appunto i vari garagini dove vengono nascoste le cose molto probabilmente la chiave che ha trovato all'interno del museo è servita per aprire qualcosa all'interno di questo posto dove ha preso questo zaino che tiene appunto in mano e credo che stia scappando da Konshu dato che vediamo l'ombra di una luna che lo sta inseguendo assistiamo poi a due scene della sua trasformazione in Moon Knight una all'interno del bagno che rivedremo più avanti e una all'esterno e vediamo queste bende appunto che gli si legano addosso a formare il costume siamo quindi nel bagno dove si stava trasformando prima e vediamo Moon Knight prendere a puni in faccia quello che sembra proprio essere il dio egiziano Hanubi ed infine prima di concludere il trailer ci fanno vedere nel dettaglio bene il costume di Moon Knight dove possiamo vedere la mezzaluna appunto sul suo petto mezzaluna che credo possa staccare ed utilizzare come arma dato che la vediamo anche nel poster ufficiale e subito dopo il nuovo logo realizzato interamente di bianco e la scritta che ci informa che la serie comincerà appunto il 30 marzo possiamo vedere come ultimissima immagine Moon Knight saltare da un tetto all'altro passando di fronte alla luna trailer che mi è piaciuto molto come ho detto anche nella reaction nella questione delle personalità multiple è una delle cose più fighe del personaggio sono curioso di vedere se giocheranno anche qui sulla storia che non si sa bene ma effettivamente se lui sia effettivamente matto se sia posseduto da Conscious e quello che vede è solo nella sua testa o se c'è veramente una divinità egizia che è entrata nel suo corpo e l'ha portato a diventare Moon Knight il costume è molto figo spero che non sia realizzato sempre interamente tutto nel CGI ma la cosa che mi ha fatto impazzire proprio Conscious lo vediamo con questo teschio maestoso camminare di fronte a lui nella scena appunto del corridoio che mi è piaciuto un sacco per quanto riguarda il villain non sappiamo praticamente nulla il personaggio anche nei fumetti come ho detto durante l'analisi è super anonimo e super secondario quindi credo che l'abbiano riscritto e sono curioso di vedere come lo gestiranno anche perché Itanokyo mi piace un sacco come attore come mi piace anche Oscar Isaac dal punto di vista del cast secondo me hanno azzeccato a pieno sono soprattutto curioso di vedere quanto sarà violenta Moon Knight deve essere per forza violento il fatto che almeno in Italia non abbiano dato segnali su un'uscita su Star che è la divisione un pochino più matura che trovate all'interno di Disney Plus non è che mi faccia sperare benissimo ma spero che spingano un pochino di più perché su alcuni personaggi devi spingere un pochino di più spero quindi che non si riduca a picchiare solo creature in CGI ma che sia anche bello violento anche con le persone normali certo sappiamo che pesterà qualcuno appunto nella scena ambientata in Germania ma spero che lui non si risvegli di colpo con già tutti sdraiati cioè voglio proprio vedere lui che prenda pugni in faccia alla gente anche perché se non lo faranno qua su Moon Knight potrei iniziare ad avere paura anche per Daredevil comunque ragazzi non vedo l'ora che esca è lunga da qui fino al 30 marzo avrei sperato che l'avessero anticipato alla fine di qualche settimana però è andata così, unlucky, ci tocca attendere ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate voi mi raccomando con un commentino qui sotto io vi ricordo di seguirmi su Instagram di lasciare un mi piace al video se vi è piaciuto condividetelo sui vostri social e noi come sempre come al solito ci vediamo al prossimo video ciao